battle royale gas in avvicinamento rapido andate nella zona sicura non Sì, sì, sì. l'area operativa. Raggiungete il punto indicato e mettete in sicurezza l'area. L'area operativa e mettete in sicurezza. 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 L'area operativa. L'area operativa. L'area operativa e mettete in sicurezza. 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 Raggiungete in sicurezza. L'area operativa e mettete in sicurezza. V, namely, in volo. L'area operativa e mettete in sicurezza. soldato nemico in arrivo gas in avvicinamento gas in avvicinamento serve un volo di ricognizione we falcon 3-0 ricevuto pattugliamento UAV iniziato UAV nemico in volo autonomia UAV inzaurita, rientro alla base UAV nemico in volo 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 gas in arrivo spostamento della zona sicura soldato nemico in arrivo serve a qualcuno va bene Grazie a tutti Grazie a tutti Cassa di scorte pronta per il recupero Guapinemico in volo Grazie a tutti Nuovo obiettivo identificato Guapinemico in volo Grazie a tutti Grazie a tutti Guapinemico in volo Gas in movimento Nuova zona sicura individuata Guapinemico in volo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Contratto fallito Contratto fallito Obiettivo fallito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Ne restano solo cinque. Finisci la missione. Gas in arrivo. Nuova zona scura. Punta assegnata. Arriva il gas. Gas in arrivo. Ok. Ok. Non so. Grazie a tutti. Alla nuova zona sicura. Obiettivo principale confugato. Bel lavoro. Alla nuova zona scura. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti.